Bentornati su MyFootballGersey, non c'è due senza tre e questa è la terza maglia del Napoli che vedo per questa stagione. Questa ovviamente è la prima in edizione FAN! FAN! La maglia è bella, ho già avuto modo di dirlo, di un'ottima qualità, ci sono piccole differenze tra la versione player e questa, però devo dirvi non così evidenti. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso, decidete voi cosa fare, però veramente considerate che a fare. In descrizione, qua sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale, prima però vi ricordo iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia media della versione FAN! Ciao!